Quarto classificato l'Isopdex 3, Marco Petit Magrini. Piacere, ciao. Piacere, in realtà ci conosciamo già da scorse Isop, ormai una faccia nota, simpaticamente nota. Complimenti per questo ITM, importante. Grazie, grazie, grazie. Non solo ITM, ma un importantissimo ticket per il main delle Isop di maggio 2013, il ticket da 9,90. Sì, quello sono molto contento perché quando si scippa ticket così, diciamo, gratis, tra virgolette, è sempre un bel successo. Parliamo della tua esperienza al Isopdex 3. Sì, dunque, allora, diciamo che questo qui è un torneo che ormai io conosco, Gian già lo conosco da tempo e fa sempre buonissimi tornei, le strutture sono bellissime, incrollabili. Quindi, questo è un nuovo, diciamo, brand che è uscito questo anno e diciamo che, sì, è un torneo che ha già riscosso il suo successo. Qui siamo già alla terza edizione per Pasqua, va bene, c'è stato un pochino meno come presenze, però, insomma, un bel torneo, un bellissimo torneo. Senti, comunque è un bel luogo, nel luogo di Pasqua hai trovato una bella sorpresa. Sì, 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 sono molto contento. Fino ad ora, diciamo che mi è andato tutto male, nei momenti cruciali. In questo torneo, si vede che proprio perché era Pasqua, ho avuto la fortuna di farmi leggere i colpi quando ero avanti. Senti, allora, tu sei un giocatore comunque abbastanza chiuso, abbastanza regular, diciamo. Sì, 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 ora mi sono un po', diciamo, ho cambiato un po' le mie caratteristiche. Riesco a fondare di più e quindi aspetto un po' le mani un po' più importanti. Sì, appunto, ecco, quindi una struttura tecnica e solida, così come quella di Ip, premia, no, ai giocatori come te? Sì, aiuta tanto, 70.000 di stack, 40 minuti livelli, poi il secondo, 50, poi un'ora, il terzo giorno. È molto, molto importante giocare, giocare proprio le mani, aspettare, insomma, se uno ha la fortuna di vederle. E questa è una struttura che premia molto i giocatori di questo tipo, sì, senz'altro. Tantissimi giocatori anche di alto livello, ce n'è uno in particolare che ti ha colpito? Guarda, il field era importante anche se i giocatori erano pochi, pochi relativamente, tra virgolette, perché insomma 270 presenze sono tante lo stesso per un periodo di Pasqua. E comunque il field, abbiamo visto in Guyen, abbiamo visto ora cantonati diversi giocatori del, diciamo, del circuito pro. Comunque c'è un giocatore che ora sta facendo, diciamo, il tavolo finale che mi ha impressionato tantissimo. La prima volta che ci giocavo insieme, Virgilio, è un bravissimo giocatore. E le zappe che sta facendo con Izzo, credo che siano due giocatori meritevoli di essere arrivati i primi e i secondi di questo torneo. Molto bravi, molto bravi davvero. Benissimo, allora l'appuntamento con Marco Petit Magrini è per il main event dal 17 al 20 maggio a Saint-Vençà. Grazie, grazie a voi, grazie. Grazie.